E allora buongiorno, buongiorno pezzi di... e volevo dire buongiorno amici, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo, ok? Veramente questo video lo dovete condividere con tutti e devastare di mi piace, perché non sarete più le stesse persone una volta che questo video sarà finito, ok? E mi fate anche il piacere di andare a vedere tutti gli altri video fatti e di non perdervi neanche un cazzo! Allora quest'oggi mi avete chiesto il cattomercato del City, io vi devasto, io vi devasto perché avete visto che in cover c'è Guardiola ma sotto c'è anche un altro allenatore, perché? Perché io il City non lo voglio fare per Guardiola, perché io Guardiola lo voglio mandare fuori dai Maroni, ok? Quindi il City che farei io parte da questo presupposto, un po' come il cattomercato del Napoli, diciamo, ma lì io ho presi coscienza purtroppo di una valutazione fatta dalle... Le lobby napolitensi anti-spallettiane e lì che cosa dissi? Bene, volete cacciare spalletti? Vi piglio Pellegrino Matarazzo con una squadra come dico io e vediamo se siete contenti. Qui invece è proprio una valutazione di merito. Semplicemente mi ha rotto il cazzo questo Manchester City così molto capito alla pace, dei piedi buoni, il giochismo del cazzo basta, basta ha rotto i coglioni! Questo giochi... il centravanti è lo... ma basta con questi estremismi estetici del cazzo! In una squadra poi oltretutto che è rappresentativa invece dell'anima proletaria di Manchester, penso agli Oasis, penso agli operai, agli angiporti mancuniani, no? La squadra del City è la squadra del popolo, quindi il tracciato è quello di tornare allo spirito del Main Road. Ve lo ricordate il bellissimo Manchester City 2003-2004 con McMahon, Annel K, Tarnat, con in panca Kevin Keegan? Quelli erano i Manchester City che ci fomentavano, quindi facciamo un bel repulisti di tutta la gente che si è appigliato sul Manchester City, tutti questi fighettini, capito? Questi rettiliani del fighettume del cazzo! Fuori dai maroni facciamo un bel Manchester City come Cristo comanda e da cosa iniziamo? Ma da una campagna di stampa del tipo così, anche inventata, tu fai uscire sui giornali britannici qualche insiderata tipo Guardiola è stanco, Guardiola vorrebbe tornare in Spagna, che magari non è vero, però serve per magari far venire a lui la puzza che sta succedendo qualcosa, no? Lui dice, ma come escono queste cose che non sono vere? Strano che escano! Allora lui chiede appuntamento in sede e io che sono diventato presidente del City si siede davanti a me nel Wyoming e mi dice, ma scusi signor Presidente, cosa sta succedendo? E io gli dico, guarda Pep, non abbiamo neanche i soldi per piangere, che poi non è vero perché faremo degli appuntamenti, guarda Pep, purtroppo non abbiamo neanche i soldi per piangere, ma come? Ma quindi il giocatore, Ixtal dei tali, Calvin Phillips, tizio che... guarda, non ho soldi neanche per cagare. E lui ovviamente prenderà atto della situazione, si farà due conti e ci si lascia, ci si lascia così, no? Come quando vi chiedono i soldi per qualcosa, voi se siete tirchi come me, non li volete assolutamente dare per niente, e dite, guarda, non ho soldi neanche per mangiare, quindi proprio guarda non posso. Ecco, con Guardiola fai una cosa del genere, capito? Stoppi tutto subito, buon'uscita via, e chi chiamiamo? Buon'uscita anche, tanto ci avanzerà mezzo miliardo di euro, quindi potete dargli anche una buon'uscita a Guardiola, e chi chiamiamo? HENSI! HENSIFLICK! Io voglio il Manchester City col 4-2-3-1 guidato da HENSIFLICK, che viene col suo bel panzonello, capito? Da turista tedesco a Carle o a Jesolo, con la ciabattata di spugna importante, il panzone... Medioman! HENSIFLICK è Medioman, capito? Ha vinto la Champions, è un allenatore proprio in spirito Main Road, Kevin Keegan, quei richiami anche molto alla Troutman, la conoscete la storia di Troutman al City? No, perché siete ignoranti anche voi come la merda, andatevi a vedere Troutman al City, portiere che fu protagonista anche di una bellissima storia di riconciliazione post bellica, Lui, portiere tedesco in una squadra inglese popolare, ecco, Troutman, Tarnath, Tarnath, anche lui era tedesco, giocava nel City 2000... HENSIFLICK! Un Flick no a queste cagatine sul bel gioco, il possesso, il centroavanti e lo spazio, i segoni su cansello, ma vaffanculo! Prendiamoci un bel City di tempra e foggia teutonico, popolare, capito? Bello rusticano, che ci gasa, perché non fa parte del City, questo spirito rettiliano, Vallo a fare all'Ajax, fallo al Barcellona, non venire a farlo al City e non rompere i coglioni, quindi al City HENSIFLICK! Mediomen col panzonello, ok, anzi, sarebbe bello fare una bella foto di HENSIFLICK a Caorle, col panzonello, il birrozzo in mano, e il tabloid inglese, this is the new manager of City, what fucking is... ed è HENSIFLICK! Quindi il City io lo costruisco per HENSIFLICK, sulla base del 4231, anche per un'altra cosa, perché se voi siete intelligenti, cosa mi dite adesso? Ma HENSIFLICK allena la nazionale tedesca, bravissimi, ma ad allenare la nazionale tedesca con HENSIFLICK al City ci va Klopp, ok, che è giusto, che merita secondo me di andare ad allenare la nazionale tedesca, FLICK viene al City da noi, e vi dico di più, questo cattomercato qui può sostanziarsi in una seconda puntata, ok, se c'è un abbonato intermedio che la vuole richiedere vi faccio godere, vi faccio il Liverpool senza Klopp, con un nuovo allenatore che ho già in testa e ho già tutto pronto, basta che arrivi uno a chiedermi il cattomercato del Liverpool, ok, e lo faccio, e lo faccio assolutamente, tra gli abbonati intermedi vi caccio anche la seconda puntata. Quindi, Guardiola fuori dal cazzo, HENSIFLICK allenatore del City, Klopp ad allenare la nazionale tedesca, ma concentriamoci sul City, ok, e se volete vi sistemo anche lo United, se c'è qualche abbonato intermedio che vuole lo United, facciamo anche la terza puntata. Ma andiamo subito, vi leggo la rosa dei giocatori, vi dico chi terrei e chi no, ok, Ederson via, fuori dalle palle, anche questo il portiere con i piedi da trequartista, allora vai a fare il trequartista e non fare il portiere, che due coglioni, via Ederson 50 milioni, via anche Steffen 6 milioni, tengo Carson e Muric, ok, poi difensori centrali Ruben Dias, il difensore di 6 categorie superiori, bene, portaci 80 milioni di euro e fuori dalle palle anche te, anche la Port via, questi influssi barcelloniani, chi se ne frega, via 40 milioni, resta Stones che mi gasa. Stones mi ha gasato anche quando ha fatto l'imitazione degli italiani, ve la ricordate? Che c'era tutto il popolino bue risentito perché aveva fame, a me ha gasato invece quell'imitazione. John Stones è il bonucci del City, quindi lo confermiamo assolutamente, a che via anche lui, se con rispetto, 35 milioni ma via, e Itakura lo inserisco in una trattativa, un giovane giapponese. Zincenco lo diamo in prestito, ok, così, senza colpo ferire, e anche Stevano, viciottimo giovane in prestito. Cancelo via, 60 milioni, che due palle, Cancelo, anche lui i piedi da trequartista, Cancelo di qua, BASTA, 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 che cazzo c'entrano giocatori come Ruben Dias, Cancelo a livello di identità col City, via! 60 milioni, Cancelo fuori dei coglioni, Walker invece resta, e Caborello inserisco in una trattativa. Rodri, Iden con patate con gli altri prima, 80 milioni fuori dalle palle, Fernandinho resta, Foden resta, Geyser, Geyser, Foden, lui invece ha una storia popolare alle spalle, quindi rispetto, ok, io dico rispetto e resta, Gundogan via, Gundogan è il Verratti tedesco, mai sopportato, sopravvalutato, lento, ongo come il passio, quindi via Gundogan, 20 milioni, ciao! Herrera lo cediamo in una trattativa, e Palaversa, ante Palaversa, solo per il nome lo tengo. Trequartisti, De Bruyne lo tengo, Bernardo Silva via anche lui, un altro che si sente un cazzo e mezzo con sta faccia, capito, che arrivo ti insegno il calcio, ma via, 70 milioni via, Palmer lo tengo, Sterling fuori dei coglioni, con rispetto però, perché comunque è un discreto Geyser, 68 milioni via, Grealish via, Grealish 80 milioni per uno che vuol fare il David Beckham al City, no, il David Beckham lo fai da altri, già uno che ha sti capelli tirati indietro nel 2022, lo facevi negli anni 90, se nascevi negli anni 90 aveva senso, ok? Ok? Invece tu non sei David Beckham, e se sei David Beckham lo fai lo United e non al City. Grealish fuori dalle palle, va dall'Arsenal, torni alla Stoneville, dove vuole, basta che portino 80 milioni, anche Marez via, un altro, lo apprezzavo a Leicester, qui si sente un cazzo e mezzo anche lui, via, 30 milioni via anche lui, Gabriel Jesus lo segniamo già ceduto all'Arsenal, 45 milioni fuori dal cazzo, Alan invece resta, perché resta Alan, non vi stupirà, no, resta perché suo padre era un giocatore del City, a cui Keane intervenne tipo rompendo il ginocchio, quindi Alan resta solo per motivi di richiami familiari. Julian Alvarez via in prestito, ok? Perché non voglio questi giocatori tra i maroni, Julian Alvarez in prestito, Bustos in una trattativa. Bene, abbiamo fatto tutte queste cessioni, abbiamo preso 650 milioni di euro dalle cessioni, ebbene sì signori, ebbene sì, 600, più di mezzo miliardo per la gente che c'era, andiamo a rifare completamente la squadra per Hansi, Hansi Flick. Chi andiamo a prendere? Allora, andiamo a prendere Nubel, ok? Che è stato in prestito come portiere, andiamo a prendere Nubel, che è stato in prestito al Monaco, ma ce lo prendiamo per 9 milioni dal Bayern, Nubel. Poi prendiamo Henricks dall'Ipsia, per 25 milioni, più il cartellino di Itakura, quotato 5. Proprio una grande trattativa questa. Poi andiamo dall'Erta Berlino e prendiamo Derdick Boyata, Influssi companiani, ricorda un po' company, Boyata dall'Erta Berlino. Poi prendiamo Westergaard dall'Eister City, per 8 milioni, più il cartellino di Herrera, quotato 10, Boyata erano 4 milioni. Poi andiamo dal Venezia e prendiamo Svoboda e Ulman, ok? Per 8 milioni e mezzo. Ci portiamo a casa Der Commissar, Der Commissar e Svoboda, ok? Per 8 milioni e mezzo. Poi prendiamo Norgaard dal Brentford, per 14 milioni, più il cartellino di Caboret, quotato 5. Andiamo bene a ungere, a pagare, perché Norgaard è un sad player. E ci andiamo a prendere Amiri dal Bayer Leverkusen, per 5 milioni, più il cartellino di Bustos, quotato 4 e mezzo. Poi andiamo dall'Ajax e ci facciamo prestare Tadic per un anno, così, un'operazione, Tadic ha sempre giocato in queste squadre qui che poi non hanno mai competuto molto, è sempre stato all'Ajax, magari può avere interesse a farsi un anno in Premier per provare l'esperienza, per provare una Champions ad alto livello e poi si decide a fine anno cosa fare, se confermarlo, riscattarlo o farlo tornare tranquillamente. Tadic dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto e poi i valuti. Poi andiamo dal Fulham e prendiamo Nocaert per 3 milioni e mezzo, Nocaert. Poi andiamo dal Galatasaray e prendiamo Van Hanolt in prestito con diritto di riscatto, perché abbiamo venduto per più di mezzo miliardo, ma facciamo anche i pellegrini sugli acquisti, giusto così perché siamo tirchi, gliel'abbiamo detto a Guardiola. Van Hanolt dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Come vice Holland prendiamo Pedro Guilherme, quello che era la Fiorentina con la sindrome aeroportuale, ok? Pedro Guilherme dal Flamengo per 18 milioni. Poi prendiamo Zuber dalla E-Catene in prestito con diritto di riscatto anche lui. Last but not least, operazione devastante, Brun Larsen dall'Offenheim, lo paghiamo 9 milioni e lo lasciamo lì in prestito. Giusto per fare un'arroganza, come per dire da oggi in Bundesliga Hensi Flick decide lui cosa fare, lo compro e te lo lascio, ok? Lasciamo anche dei buoni rapporti. Quindi abbiamo preso, ripeto, Neubel, Henricks, Boyata, Westergaard, Svoboda, Ullmann, Norgard, Amiri, Tadic, Nockert, Van Hanolt, Pedro Guilherme, Zuber, Brun Larsen che abbiamo lasciato in prestito. Tutti questi giocatori abbiamo preso, abbiamo venduto anche l'Ira di Dio e abbiamo rifatto la squadra. Vi leggo la rosa che ci resta. Allora, portieri abbiamo Neubel, Carson e Muric, difensori centrali Stones, Boyata, Westergaard e Svoboda, mamma mia, terzini sinistri Van Hanolt e Ullmann, terzini destri Henricks e Walker, centrocampisti Fernardinho, Palaversa, Norgard e Amiri, trequartisti De Bruyne e Palmer, Ali sinistre Tadic e Zuber, Ali destre Foden e Nocaert, Foden lo andiamo a mettere a piede invertito, ok? Go! Guardiola il mago del calcio, Foden fa lo giocare, lo facciamo giocare noi a piede invertito, Foden e Nocaert riserve. Punte centrali, Holland e Pedro riserve, ok? Vi leggo la formazione titolare. 4-2-3-1 in porta Neubel, Henricks a destra, coppie di centrali Boyata Stones e Van Hanolt a sinistra. Centrocampo a due Norgaert Amiri, trequarti Foden, De Bruyne, Tadic e Holland davanti. La trequarti è molto liquida perché Tadic può fare il trequartista se manca De Bruyne e puoi mettere Zuber alla sinistra alta. E' una squadra molto teutonica che mescola giocatori tedeschi come Neubel, Henricks, Amiri, agente comunque di stampo mitteleuropeo, capito? Molto in stile City di Main Road da 2003-2004. Tadic può anche rimanere solo un anno in prestito poi se vuole tornare all'Ajax può tornare se è fatto un anno in premio e se è divertito torna a casa. Tu hai Zuber se lo vuoi riscattare oppure Brun Larsen che è un ottimo giovane che può andare a valorizzare. Zuber oltre all'ala sinistra può fare anche il terzino sinistro al posto di Van Arnold se vuoi andare a valorizzarlo. Foden a piedi invertito. Questa è una squadra ragazzi che specie nella Champions dell'anno prossimo parte petata da tutti perché tutti ma che squadra hanno fatto ma cosa è successo? Parte petata poi è come un diesel questo è come un diesel tedesco supremazia tecnologica tedesca sta squadra parte come un diesel poi vedi che quando arrivi agli ottavi quarti Tadic De Bruyne tutta sta gente qua Foden al posto di fare i fighetti dell'estetica come con Guardiola con un allenatore pratico concreto che ha vinto una Champions come il buon come il buon Hansi Flick questi crescono e iniziano a macinare le paure degli avversari questi dicono siamo una squadra di sterchi vediamolo in campo di cortomuso andando avanti con la sapienza di Flick giocatori come Tadic De Bruyne che gli viene la cattiveria anche di perché il City di oggi è un fallimento che si autocompie perché tutti li aspettano al Varco vediamo cosa fa il City del bel gioco strano e falliscono clamorosamente invece questa è una squadra molto più cattiva che parte con 5 Skydemons in scarsea col pel su stomego con gente che sa come si fa a vincere e a Zebona di far meglio di Guardiola Tizio e Caio poi vi dico anche un'altra cosa questa squadra qua è piena di giocatori non giovani ma che io avrei sempre voluto vedere in una grande squadra di Champions penso a chi Boiata per esempio è uno che ha fatto una carriera molto meno di quello che poteva fare Van Anolt all'ultimo europeo tutti hanno incensato Danfries Van Anolt aveva giocato molto bene per me è uno che merita un'opportunità ad alto livello così come per esempio Tadic al posto di rimanere a marcire all'Ajax viene a giocare in una squadra magari che ti può dare un palcoscenico più grande lo stesso Zuber ha fatto ha fatto un europeo della madonna e anche contro l'Italia ve lo ricordate assieme a Widmer aveva fatto veramente le buche per terra quindi questa è una squadra che a me piace molto ok vi ripeto vi ripeto tutta la rosa anche se se volete che gasa portieri Nubel Carson Muric difensori centrali Ston sboiata Westergaard Svoboda Svoboda un giovane di fisico che in premier va benissimo Svoboda Van Anolt Ulman dal commissar fa meglio di Ulman diventa meglio di Cancelo terzi di destri Enriks fortissimo con Walker sicurezza centrocampo comunque puoi anche far giocare Fernandinho Amiri Fernandinho Norgard capito puoi arretrare anche se vuoi Foden se vuoi provare sto futurismo ok hai comunque De Bruyne hai Zuber che è un'ottima chiamata vi ripeto che può giocare terzino anche addirittura anche il trequartista può fare Zuber in emergenza attenzione Nocaert è uno che conosce la premia del calcio inglese Pedro chissà che visto che a Pedro non gli viene chiesto niente perché c'è Oland davanti che vorrà mangiare il campo vorrà fare le partite ma magari è uno che Flick è uno che questa squadra te la fa lievitare e tu ti diverti con questa rosa qua questo city qua è un city da main road è un city classico è un city tradizionale è proprio di identità Manchester City questo questo è un city che fa contenti i tifosi non quello di oggi rettiliano che non fa un cazzo che sta lì a girare menare il torrone e ogni anno tutto in mona tutto in mona questo è un bel city questo è un city che gasa che fomenta che fomenta con un flick che viene a Caorle a Jesolo a mangiare la pizza col birrozzo così è bello questo è il city questo è un city beh e guardate che è tre quarti porca puttana guardate la tre quarti attacco e aspetta mi sono dimenticato di fare il conto dei soldi che ci avanzano ragazzi non ve l'ho neanche detto ci avanzano 540 milioni e sapete cosa ci facciamo andiamo al Pompei pensate ad andare al Pompei con mezzo miliardo io vorrei che uno facesse il conto di quanti soldi alla fine di tutti i mercati abbiamo dato al Pompei tipo avrà un PIL avrà un PIL di uno stato del G8 ormai eh? eh? mezzo miliardo al Pompei un caro saluto